La sala stampa Gabriele Fioretti del Forum ha ospitato la presentazione della Luca Garri Academy. L'ex cestista azzurro ha parlato del progetto che si propone di creare collaborazioni e sinergie con le principali realtà sportive del territorio, dedicandosi ai giovani e fornendo un valido strumento di aggregazione, formazione, divertimento, crescita sportiva attraverso una serie di iniziative ed eventi che forniscano e rinforzino i valori puri dello sport, la dedizione, la continuità, la fatica e la passione. Luca Garri, innanzitutto Luca, prima domanda, che cosa ci fai qui? Oggi è stato un po' il giorno zero per il nostro nuovo progetto della Luca Garri Basketball Academy che è un progetto che abbiamo pensato nelle ultime settimane, un progetto che io ho in testa già da diversi anni. Abbiamo cominciato a parlarne un pochettino in giro, abbiamo riscontrato subito grande entusiasmo. Riassumendolo brevemente, è un progetto del territorio per il territorio e non solo. Diciamo per il territorio inizialmente e non solo. È una scuola di basket, una scuola di pallacanestro, una scuola di formazione sportiva a 360 gradi e invito tutti quelli che vogliono saperne di più di questa cosa di contattarci tramite i canali social anche del Teams che è stata la prima realtà sportiva a collaborare con questo progetto. Ed è un progetto molto bello che se riusciamo a realizzarlo come l'abbiamo pensato potrebbe veramente diventare un vanto anche a livello nazionale. C'è già un evento in calendario. Giovedì 17 febbraio, infatti, alla palestra Guggia di Gossato, ci sarà una serata che coinvolgerà gli atleti del settore giovanile delle Teams, primo partner dell'Academy, un incontro formativo al quale sono però invitati anche i tecnici di pallacanestro biellesi. È stato proprio Luca Garri a svelare il logo e lo slogan dell'Academy Riaccendiamo la Passione. Con un orso, simbolo della città, è una palla spicchi infuocata che entra nella rettina, simbolo del fuoco e della passione che la città di Biella ha per la pallacanestro. Presenti alla conferenza stampa il presidente regionale FIP, Giampaolo Mastromarco, il vice sindaco di Biella, Giacomo Moscarola e i tanti rappresentanti dei partner che collaboreranno.